Non arrivano i pompieri, siamo in via Cordenone, c'è un incendio in corsa, abbiamo chiamato già da un quarto d'ora. Visto le fiamme, c'erano dei clienti, abbiamo chiamato subito i pompieri e in un attimo è saltata la tapparella e sono uscite tutte le fiamme, fortunatamente c'era un ragazzo dell'AMSA che con la pompa dell'acqua si è fermato e nel frattempo ha cercato di domare l'incendio fino all'arrivo dei pompieri. Speriamo che non ci sia rimasto nessuno in casa. Mamma mia che spavento.